Salve, continuiamo il nostro commento all'enciclica Fratelli Tutti e ci ritroviamo a parlare in questo momento della parte, siamo all'ottava tappa, della parte che riguarda la politica e che porta un indicativo titolo della migliore politica. Ecco, sappiamo bene che Papa Francesco non è la prima volta che parla di politica, ricordiamo il messaggio per la pace di qualche anno fa in cui era sceso anche nei dettagli e in genere il suo discorso sulla politica è molto concreto, va a toccare o il dibattito internazionale oppure alcuni punti da migliorare per avere una buona politica, una migliore politica. E alcune volte ha affrontato il tema del potere, dell'esercizio del potere, della corruzione presente nel bene comune, del rapporto fra potere ed economia per evitare che l'economia produca degli scarti, cioè aumenti le povertà, eccetera. Questa parte che va dal numero 154 in poi ha due caratteristiche fondamentali. Prima di tutto il Papa vuole riferirsi al dibattito in corso e che riguarda il tema del populismo. Il populismo è un atteggiamento politico in cui i leader politici si richiamano continuamente al popolo, però lo fanno in maniera retorica, demagogica, cioè approfittando della loro volontà e delle intenzioni del popolo e soprattutto per accrescere il consenso nei loro confronti e quindi anche i voti nei loro confronti. Il Papa, all'inizio del suo pontificato, dobbiamo precisare, fu un po' frainteso perché provenendo da una cultura diversa, alcune volte aveva detto che dovevamo avere un atteggiamento populista, ma non si riferiva al populismo così come noi lo intendiamo in Italia e in Occidente, ma si riferiva invece all'atteggiamento popolare, ecco, che in America Latina alcune volte viene anche chiamato populista. Preciso qui che il Papa fa parte di una corrente di pensiero, come diversi autori hanno dimostrato, che si chiama teologia del popolo, cioè una corrente di pensiero non solo umano ma soprattutto teologico in cui il popolo riveste una grande importanza, perché sappiamo bene che il Dio ha salvato le persone, Cristo Gesù, ma queste persone inserite in un popolo. Dio ha salvato il popolo, un popolo salvando le persone. È stato così per il popolo di Israele e così per il popolo dei cristiani, delle varie chiese. Allora, chiarito questo fatto che populismo è un termine negativo, mentre amore per il popolo, atteggiamento di servizio al popolo è un aspetto positivo, io ritengo che la migliore descrizione che il Papa fa del populismo ne fa una dal numero 156, 157 e 158, ma la più chiara, devo dire, è quella nel numero 159, dove il Papa parla dei capi populisti e quindi del rapporto fra il politico, il capo, il leader e il popolo, e dice che può essere di due tipi e quindi qui dà una spiegazione molto concreta di populismo. Allora, chi sono i leader popolari, cioè coloro che amano veramente il popolo? Ascoltate, dice, sono capaci, 159, sono capaci di interpretare il sentire del popolo, la sua dinamica culturale, le grandi tendenze di una società. Prestano un servizio aggregando e guidando, hanno un progetto di trasformazione e di crescita, che contempla anche la capacità di cedere il posto ad altri, cioè di dimettersi, nella ricerca del bene comune, caratteristiche che noi conosciamo quando descriviamo eticamente, le caratteristiche etiche di un vero capo. Ma dov'è il populismo? Il populismo è nei leader che, leggo ancora 159, attraggono consenso allo scopo di strumentalizzare politicamente la cultura del popolo. Attraggono consenso, voti, e per strumentalizzare la cultura del popolo, non per rispettarla e farla crescere, ma per strumentalizzarla. E lo fanno sotto qualunque segno ideologico, e sono al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al potere. Altre volte, invece, accumulano popolarità seguendo le inclinazioni più basse ed egoistiche della gente. E poi ci sono anche forme grossolani o simili di un assoggettamento delle istituzioni e della legalità. Vedete, come è solito il Papa, con aggettivi molto chiari, con termini molto concreti che usiamo nel linguaggio di ogni giorno, dice che un fatto è amare il popolo e servirlo, e un fatto è essere populisti. E quindi la migliore politica è il servizio, l'amore al popolo autentico. Non il populismo, che è anticristiano, e come dirà in un'intervista a una rivista tedesca, il populismo fa molto ricordare l'ascesa al potere di Hitler, che poi ha portato la nazione tedesca e metà Europa in un baratro, con la persecuzione di un'etnia, quella ebraica, eccetera. Quindi il populismo è cattivo già in sé e può degenerare in vere e proprie dittature, in veri e proprie sistemi totalitari. Noi invece crediamo nel leader che si spende autenticamente e sinceramente per il popolo. Questa è una parte di questi numeri sulla migliore politica, ce n'è anche un'altra, e qui il Papa sorprende per l'estrema concretezza. Non appena finito col numero 161 di parlare di vero amore per il popolo e di atteggiamento populista negativo, apre il 162 con una affermazione così immediata, che colpisce il grande tema è il lavoro. Non gira attorno. Siamo parlando di migliore politica. Il Papa dà per sottinteso, che ricordiamo che stiamo vagliando di migliore politica, finora ha detto c'è un problema, quello del populismo, ma c'è un tema grande in politica, che è il tema del lavoro. È difficile trovare in Italia politici, anche che vengono da tradizioni di partiti di lavoratori, che oggi pongono il tema del lavoro così, semplicemente, nella sua drammaticità. E in questi giorni di pandemia, ancora più, visto che in Italia, come in tutto il mondo, stanno diminuendo posti di lavoro. Viva la concretezza, quella concretezza che non è politica, è cristiana, perché il tema del lavoro è un tema cristiano, è un compito che Dio creatore ha affidato alla coppia, ad Amo e Deva, quando gli ha dato il compito di lavorare alla terra e di portare frutti. E quindi un tema importantissimo. Non va dimenticato anche un tema importante per noi italiani. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, dove il lavoro è un'attività, è un principio etico. E noi cristiani che viviamo in Italia dovremmo fecondare questo filone della Costituzione con quelle che sono le nostre idee, con quella che è la rivelazione biblica sul tema del lavoro. Io vi invito a leggere, come tutta l'enciclica, questa parte sul lavoro. Il Papa critica le visioni liberali che non hanno favorito la piena occupazione, critica alcune regole del mercato, non si può affidare tutto a un equilibrio fra offerta e domanda, ma bisogna intervenire. E lo fa anche precisando che bisogna intervenire a livello internazionale. E quindi la politica di cui ci bisogno per promuovere il lavoro non è solo locale, ma è anche globale. Il tempo sta passando, voglio fare un ultimo riferimento. Quella frase che noi credenti spesso citiamo, la politica è la più alta forma di carità. Un po' imprecisamente l'abbiamo attribuita negli ultimi anni a tutti i papi. Papa Francesco ricorda che l'affermazione, così come fu usata dal Papa, è la politica è il campo della più vasta carità, della carità politica. Ed è una frase di Pio XI in un discorso alla FUCI, agli universitari cattolici, del dicembre del 1927. Quindi la migliore politica non è populista, si occupa del tema del lavoro, critica alcune politiche del lavoro che non hanno favorito la piena occupazione, hanno creato degli scarti, come abbiamo già detto un'altra volta. La migliore politica è quella che raggiunge quel coronamento dell'amore, cioè capace di tradurre in progetti politici quell'amore, quella fratellanza di cui l'enciclica parla. Grazie a tutti.